Nostro vincente della Sharapova L'altra splendida smorzata schema per Corridoio è il dritto della Kukarova Un'altra risposta devastante Due doppi falli, eccole anche in grafica 63% di prime palle in campo 6 vincenti, 7 errori, 28 punti a 15 il totale E arriva il contro break della Kukarova 15-40, due palle break Sbaglia anche questa la Kukarova, campo aperto La risposta vincente della E a zero il break E arriva l'errore Accelerazione lungolina di rovescio, 0-30 Una risposta vincente della Sharapova E in campo il rovescio della Sharapova E 40-15 con l'Ace Sparacchia aveva il dritto La Kukarova e allora Maria Sharapova Si impone nettamente 6-1, 6-2 Supera l'esordio del torneo WTA di Madrid Grazie 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 Grazie.